Se non ci saranno cambiamenti repentini di scenario nelle prossime ore, nei prossimi giorni, io ho già dato disposizione all'assessore Adberti ieri di attivarsi per i trasporti e il lunedì apriamo le scuole. L'annuncio del presidente Zai è atteso da famiglie e studenti delle scuole superiori del Veneto al momento ancora in didattica a distanza in virtù dell'ordinanza regionale in scadenza il 31 gennaio. Le modalità di ripartenza verranno discusse nelle prossime ore. Mi sembra di capire che prudenzialmente si andrà verso il 50% in questa prima fase. Dovremmo monitorare fortemente il tema scolastico perché comunque non è che si va in diminuzione da rischio. Verranno anche definiti gli aspetti relativi al trasporto scolastico. Verranno assunti anche, e ci sarà la figura ad esempio di una nuova figura, dello steward. Steward che alla fermata degli autobus faranno veicolare i ragazzi verso i diversi mezzi a disposizione per evitare assembramenti. La decisione di aprire le scuole, sottolinea il presidente Zai, arriva alla luce dei dati del contagio. Adesso, dice, abbiamo un calo di 25 giorni. E a proposito di numeri, quasi dimezzato, quello dei Veneti, attualmente positivi 44.519. Un serato una settimana fa avevamo 90.000. Ciò vuol dire che si negativizzano e non c'è più ingresso di nuovi positivi. Segnali positivi anche dagli ospedali, con 900 posti letti in meno rispetto al picco registrato in questa seconda ondata. scende anche la Re Conti che la settimana scorsa in Veneto era di 0,81, il secondo migliore in Italia. Numeri che portano il pensiero a venerdì quando ci sarà una nuova valutazione del Comitato Tecnico Scientifico sull'assegnazione delle fasce di rischio. Io spero che la prossima settimana ci regali anche la possibilità di essere rivalutati per la zona gialla. E a proposito di valutazioni, i governatori della Lega hanno rinnovato la richiesta di una revisione immediata delle procedure per determinare il colore delle regioni. Ma il fronte caldo di questi ultimi giorni riguarda le forniture dei vaccini. Stanno arrivando in queste ore in diverse regioni le prime fiale Pfizer delle circa 455.000 previste per questa settimana, 50.000 quelle attese domani in Veneto. Mi sembra, dalle ultime notizie, che Pfizer torni a regime con le forniture, addirittura con qualche anche, posso dire, timida apertura per far qualcosa di più. Io penso che le carte bollate non ci servono. Noi preferiamo i vaccini. Ritardi anche per il vaccino AstraZeneca in validazione in queste ore da parte di Ema. Degli 8 milioni previsti ne arriveranno 3,4 in Italia, dove continua senza i toppi la fornitura di Moderna. Ma si guarda con fiducia anche a quello di Johnson & Johnson e Reitera. È uno scenario che ci permette di dire che alla volta di febbraio-marzo dovremmo avere un po' più di movimento nelle vaccinazioni. Infine un'ultima considerazione sulla crisi di governo, forse vicina ad una soluzione. Immagino che o ci sono numeri veri o si debba andare a votare. Non ci vedo altre soluzioni.